nome paolo enrico data di nascita 11 novembre 1954 31 agosto 66 la tua canzone preferita di sempre emozioni lucio battisti back in black city la tua città preferita roma firenze tuo piatto preferito aglio olio e peperoncino spaghetti risotto all'amarone se tornassi a nascere cosa faresti pilota professionista giornalista l'esperienza più figa della tua vita lo sport correre con i motori camminare in alta montagna come si chiama la donna del tuo primo bacio troppi anni sono passati confermo come si chiama l'uomo del tuo primo bacio Giancarlo mio cugino il posto dove ci ha lasciato il cuore figlio di Venezia Giulia Carnia Alto Adige descrivi in 12 secondi il tuo cliente ideale il mio cliente ideale è il cliente aperto a tutte le innovazioni immaginabili possibili il cliente che ascolta sottoscritto e si fa consigliare guidare qual è stato il concerto che ti è rimasto nel cuore vasco rossi e si di si quando e dove sei per il tuo primo viaggio spagna madrid spagna andalusia descriviti in tre parole biondo alto occhi azzurri lucido goccia goccia aperto quanto ti piace il tuo lavoro da 0 a 100 100 110 quanto sei bravo nel tuo lavoro da 0 a 100 110 non mi sono mai posto questa domanda cerco giorno dopo giorno di migliorare quanto sei modetto da 0 a 100 0 troppo ti senti più discordia o più armonico discordia ero partito armonico ma mi sento oggi discordia hai un antidoto anti stress si praticare sport motoristici trekking estremo villa portocervo loft a new york barca in vela grecia o maso in trentino maso in trentino barca vela in grecia descrivi la salis in 14 secondi credo che sia oggi la più grande azienda di pavimenti in legno che c'è in italia e salis è quello che mi mancava nella mia esperienza lavorativa non è un'azienda è un modo di pensare